Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo del messaggio IMSS numero 3774 pubblicato in data 4 novembre 2021. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Nel messaggio IMSS numero 3774 pubblicato in data 4 novembre 2021 si parla di esonero di contributi agricoli. Infatti è stata aperta la procedura per la domanda in riferimento ai mesi di novembre e dicembre 2020 e per gennaio 2021. Quindi l'IMSS con questo messaggio ha comunicato di aver reso disponibile il modulo per poter fare la richiesta e un'agevolazione che è stata introdotta, ricordiamo, nel decreto Ristori ed è concessa alle imprese che appartengono a queste filiere agricole, pesca, acquacultura e comprese anche le aziende produttrici di birra e vino. Nello specifico si tratta dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei premi e i contributi che devono essere versati all'INAI. Nel messaggio viene specificato che tale domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio in oggetto, ovvero la scadenza sarà il 4 dicembre 2021, che però cadendo di sabato potrebbe essere posticipata lunedì 6 dicembre. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.